Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presono Studio One ed Acustica Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, anche quest'anno tempo di bilancio e conferme. Come abbiamo annunciato più volte su questo canale i plugin recensiti si sono posti nel mio workflow in maniera definitiva e hanno poi ottenuto conferme anche da altri professionisti. Andiamo a vedere cosa ho acquistato e cosa ho contribuito a creare insieme agli sviluppatori con cui collaboro. Devo premettere però che quest'anno ho investito parecchio nell'aggiornamento delle apparecchiature dello studio. Ho acquistato il nuovo MacBook Pro M1, le nuove casse da mastering Rush Audio 03 e ammenicoli vari che hanno rosicchiato tutto il budget che prima destinavo a tanti altri plugin e che poi puntualmente a volte non usavo più. È stato sicuramente l'anno dei saturatori. Tutti hanno fatto video sui saturators e appunto dove tutte le software house hanno presentato il proprio algoritmo di distorsione. Ne abbiamo visto un paio sul canale ma guardiamo quali ho effettivamente utilizzato nei vari mix. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno affidato i mix e i mastering delle loro produzioni home quest'anno. Alcuni li vedremo sul canale come video tutorial sicuramente. La grossa novità di quest'anno è stato l'aggiornamento di Presonus Studio One alla versione 6 e anche di Presonus stessa che è stata acquistata da Fender e non sappiamo ancora come si dedicherà effettivamente allo sviluppo della Do. Al momento sembrano due entità separate ed il logo Fender non appare ancora su Studio One né tanto meno sul sito di Presonus. Potrebbe essere proprio la mossa più saggia mantenere quindi le due entità separate. Vi terrò aggiornati sicuramente sugli sviluppi della faccenda. Nel mentre è uscito Studio One 6 come dicevo con tante novità. Trovate il video sul canale e la nuova traduzione in italiano che ho preparato per l'applicazione ora è finalmente utilizzabile con un senso più fonico e meno letterario. Il mio desiderio di avere un plugin di limiting personalizzato e quindi con un colore assolutamente particolare è stato esaudito da Acustica Audio con cui collaboro più profondamente da un paio di anni e che trovate soltanto acquistando il corso Mix e Mastering con i plugin di Acustica Audio sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com vi ricordo che non può essere acquistato separatamente. Ho fatto un video proprio dedicato ad Unlimit JGR su questo canale. Sempre da Acustica è stato rilasciato gratuitamente TAN2 che vi invito a scaricare e che contiene al suo interno i miei preset. Ho consolidato inoltre la mia collaborazione con PSP Audioware che ha rilasciato Saturator, lo vedremo infatti tra un po', sempre con i miei preset ed il nuovissimo delay modulare PSP285. Ora è in offerta, ne parleremo tra un po'. Continua infine la mia collaborazione con DSP4, il miglior software a mio avviso di audio editing su Mac, sviluppato sempre in Italia da Stefano Daino. Andiamo subito a vedere le novità di quest'anno e che hanno portato ad un incremento pazzesco del mio workflow e della qualità in generale dei miei mix. Per chi avesse perso i video relativi agli anni precedenti, quindi 2020-2021, li trovate sempre sul canale. Ho suddiviso la song, come vediamo ho caricato tutti i plugin che utilizzo normalmente nei mix e ho suddiviso la song, in questo caso in canali, in channel strip che contengono quelli in relazione al peso sulla CPU, quelli per il recording, quelli per il mix, quelli per il mastering, gli effetti, i saturatori, i meters, quindi plugin metering, i tools, quelli utili durante le fasi di mix e quelli dedicati alla chitarra perché appunto la suono negli album. E infine appunto il mio Fire Unlimit che troviamo sul master fisso come sempre. Oltre ovviamente a Sienna Guru che utilizzo in maniera preponderante con il mix in cuffia, a cui appunto sono stati dedicati tantissimi video all'interno del canale e ovviamente Sound ID Reference per il setting delle casse che testo poi qui nel mio studio normalmente. Vediamo però subito quelli relativi al 2022 che sono entrati di forza all'interno del mio workflow. Iniziamo proprio dall'ultimo uscito, quindi l'altro ieri, il nuovissimo PSP 285 che prende il posto del vecchio PSP 84 e 85. Vi ricordo che sono tutte evoluzioni del PSP 42 che era appunto la macchina originale Lexicon 42 emulata da PSP e quindi ora la ritroviamo in questa nuova formula estremamente più complessa e più ampia che si chiama appunto 285. È un sistema modulare molto molto simile a quello che abbiamo già visto all'interno di Infini Strip. Lo vedremo poi in un video dedicato ed è un plugin di delay e riverbero pazzesco, è veramente incredibile il suono, la pasta e il modo di poter gestire al suo interno sia il protocollo mid-side sia i gating dentro il riverbero. È uscito da qualche giorno, troverete poi anche i miei preset all'interno, adesso non sono presenti ed è in offerta a 99 dollari, dopodiché schizzerà al doppio. Quindi vi consiglio di scaricare subito la demo e provarla in questi giorni. Scendendo sempre in presenza temporale andiamo ad analizzare Ash che abbiamo già visto in un video a lui dedicato ed è effettivamente l'evoluzione di un plugin che era uscito all'inizio dell'anno che era Fire The Clip. Questa volta ci troviamo nella sua massima espressione grazie al campionamento dei clipping, dello studio di clipping dei diversi convertitori più famosi. È sicuramente un must have di quest'anno. Difficilmente troverete uno studio di mastering nei prossimi anni che non possiede questo plugin. Segue poi Fire Unlimited che vi ho già presentato e che è un limiter, questa volta con un gusto diverso. L'abbiamo disegnato insieme ad Acustica Audio e richiama appunto la tecnologia dei VCA Storaging. Nel caso specifico fa riferimento al circuito di VCA contenuto all'interno di un altro plugin di Acustica Audio che io adoro e lo utilizzo sempre sulle voci e che si chiama appunto Nickel. Trovate i video poi di tutti i plugin di Acustica Audio e come utilizzarli nelle sessioni di Mix & Mastering sempre all'interno del mio corso appunto Mix & Mastering con Acustica Audio. Nickel è, per chi non lo ricorda, il campionamento dell'U-Ray 1176. Proseguiamo poi con un plugin questa volta di Studio One che utilizzo ormai da quando è uscita la versione 6 ed è il Pro Q3, quindi è l'evoluzione del Pro Q2 di Studio One. Infatti poi è inserito qui nella Channel Strip dove ho messo tutti i plugin a bassissima latenza, vedremo tra un po', e che oltre alle funzioni di High Pass Filter in fase lineare abbiamo anche ora la possibilità di utilizzarlo in modalità dinamica appunto come accade all'interno di EQ3 sempre di FabFilter. La particolarità come dicevo che per chi possiede Studio One è quello di poterlo utilizzare a zero latenza e zero consumo sul processore. Abbiamo poi visto recentemente un video su Sound Particles in maniera particolare tutto ciò che fa riferimento agli effetti di ambiente e anche in questo caso allo Space Control di Sound Particles, proprio per chi come me adora comunque muovere il suono all'interno degli ambienti sia stereo sia surround, quindi questo funziona anche in modalità Sphere. Super consigliato per chi ama lavorare appunto in modalità binaurale, quindi muovere i suoni nei mix. Torniamo sempre su Acoustic Audio, questa volta con Lava il plugin che ha cambiato radicalmente il mio modo di mixare perché spesso appunto ricevevo dei mix con registrazioni fatte con microfoni scadenti come ad esempio il classico Rode NT1-A e che poi potevo trasformare appunto tranquillamente in un Neumann U87 M149. Lava ovviamente funziona in modalità anche di oversampling che vi consiglio appunto di utilizzare sempre e che richiede comunque un'ottima registrazione quindi chiaro che se noi entriamo all'interno di questo plugin come spesso mi è stato fatto notare con un suono carico di ambiente quindi non soltanto la voce flat ma con tanta stanza chiaramente sarà più complesso la traslazione nell'altro microfono quindi cercate appunto di portare delle piccole accortezze macco ma alla fine da sempre un ottimo risultato sulla generazione di nuovi timbri quindi non concentriamoci troppo neanche sul microfono da emulare ma proprio sul suono che andiamo a ricercare. Passiamo poi a TAN2 anche di questo troviamo un video ed è un plugin gratuito di Acoustic Audio che vi consiglio anzi vi ordino di scaricare immediatamente perché è pazzesco e non costa assolutamente nulla. Funziona con la nuova tecnologia Hyper di Acoustic Audio in oversampling e vi da modo di avere un compressore un glue compressor pazzesco con un suono incredibile a 0 euro. Trovate sempre qui all'interno i miei preset con il nome e a fianco vi ricordo c'è una indicazione riguardante i DBFS a cui bisognerebbe entrare per utilizzare al meglio i miei preset quindi attenzione a queste piccole diciture. Sempre ad Acoustic Audio abbiamo un eccellente plugin di modifica del pan. Questa era una cosa estremamente richiesta in fase di mix quando appunto vogliamo avere la sensazione esatta di stare su una console con il relativo pan della console. Ho fatto un video dedicato proprio a Fire the Pan eccolo qui vi consiglio di andarlo a vedere anche per imparare cosa e come utilizzare un differente sistema di pan low all'interno della DO in digitale. di conseguenza passiamo su Fire the Clip che come dicevo poi si è evoluto in Ash ma comunque rimane un'arma pazzesca sul mastering soprattutto quando lavoriamo in oversampling riesce a dare un punch senza alterare le basse frequenze. Questa è una caratteristica veramente incredibile di questo plugin. Anche di questo trovate il video sul canale per passare poi ad Isotope RX10. Non l'ho ancora installato sotto forma di plugin comunque vi rimando a Ozone di Isotope che è secondo me lo strumento migliore per chi non sa dove mettere le mani in fase di mastering. Il master assistant funziona molto molto bene è un mastering assistant molto rapido chiaro standard ma vi permette di fare meno danni possibile al vostro mix qualora vorreste proseguire nel mastering casalingo. Quindi utilizza degli algoritmi standard non fa programmazione all'interno del mastering ma vi permette di avere un sound e un mix masterizzato nella maniera più ottimale possibile riferita degli standard appunto ipotetici di mercato. Passiamo poi ad un altro saturatore che ho adorato sin da subito ed ora finalmente è in una versione più completa e professionale e stiamo parlando di P42 Climax. Anche di questo vedrete un video dedicato perché è molto interessante le feature all'interno sono molto complesse ma ci permettono di aggiungere tanto tanto contenuto armonico alla nostre tracce senza devastarle in maniera eccessiva. È in realtà un circuito derivato da una DI famosissima e come vi dicevo lo vedremo in un video a lui dedicato perché ne vale veramente la pena uno dei miei acquisti migliori di quest'anno. Sempre rimanendo in campo saturatori quest'anno è uscito PSP Saturator è il nuovo saturatore di PSP Audio. Ho lavorato tantissimo alla realizzazione di questo plugin trovate sempre ovviamente in questo caso sotto designer i miei preset che vi consiglio di provare anche in questo caso Master One richiede un meno 18 rms per poter essere utilizzato al meglio. Gli altri sono meno invasivi e quindi ci permettono di fare un ottimo lavoro di colore su ogni traccia. Vi consiglio veramente di scaricare la demo e provarlo perché è un plugin di saturazione veramente interessante e molto leggero sul processore. E poi l'altro plugin che ho adorato sin da subito anche se estremamente pesante per il processore è Aero. Aero è un simulatore di amplificazione per chitarra utilizzato in modalità zero latency è incredibile a mio avviso forse è il migliore emulatore di amplificatori mai uscito sul mercato. L'unico inconveniente come vi dicevo è che richiede uno sforzo sul processore mastodontico quindi chiaramente se non avete un M1 o un M1 Pro farete molta fatica ad utilizzare questo genere di plugin in real time. Ma vi assicuro che al tatto è l'unico plugin che mi ha dato la sensazione reale di avere l'amplificatore sotto la chitarra. Sto parlando proprio di feeling sulla corda e quindi anche quella brillantezza tipica degli ampli valvolari che si hanno solo quando si suonano veramente da tanti anni. Come vi dicevo poi l'upgrade maggiore è stato proprio lo studio quindi il mio M1 Pro che avete visto in tutti gli ultimi Tutorials e le nuovissime casse Rush Audio R03 con amplificatore separato. È un upgrade enorme del mio studio perché comunque volevo un sistema di casse da mastering più dettagliato e professionale possibile ad un costo estremamente contenuto per il livello di qualità a cui ci stiamo muovendo. Non è ovviamente un prodotto home economico però per chi volesse comunque provarle potete venire tranquillamente a Roma nel mio studio. Ve le farò ascoltare tranquillamente come anche le cuffie della Audis per chi volesse provarle nello studio. Ho poi acquistato altri ammenicoli come dicevo aggiuntivi come un nuovo convertitore RME per aggiungere più canali alla mia UFX Plus. Il monitor della Samsung che ho qui davanti che ha sostituito i miei due monitor che avevo precedentemente il monitor della Acer e le espansioni che sono servite per il MacBook Pro M1 ossia l'OVC Thunder Bay 4 per gli hard disk esterni in SSD e il dock Thunderbolt sempre della OWC. Trovate dei video dedicati a questo perché sono strumenti molto professionali quindi diciamo tutti questi insieme hanno rosicchiato tutto il budget che avevo a disposizione quest'anno per lo studio. Ho preparato poi un video dedicato a tutti i plug in suddivisi per peso sul processore quindi come sceglierli quale utilizzare quale utilizzo quando ho necessità di salvare il processore quindi che mi sono più utili quando ho il mix già bello carico e pieno di plug in pesanti. Quindi ho fatto un piccolo tutorial sul come sceglierli quali sono quelli che utilizzo più spesso all'interno di un workflow complesso e quali sono suddivisi per famiglie quindi i plug in che utilizzo in fase di tracking quelli che utilizzo in fase di mix di mastering gli effetti, i saturatori che uso più spesso e ne avete visti alcuni, tutti i meters che utilizzo quando sono in fase di mastering e i tools che mi occorrono per fare il check dell'outboard esterno. Vi ricordo che all'interno del corso di Acoustic Audio ho preparato un seminario molto molto lungo sul gain staging e come applicarlo all'interno di un home recording anche professionale quindi con Outboard dedicato connesso appunto alla Do. Per il momento è tutto ci vediamo nel prossimo video Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plug in e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione Se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella, questo mi aiuta a far crescere il canale Per il momento è tutto, ciao a presto